Continua la ridda di ipotesi e di nomi per la nomina del supermanager della sovrintendenza di Pompei, Ercolano e Stabbia. Rifenisce il mattino che sarebbe uno dei padri del codice dei beni culturali, Gino Famiglietti, 61 anni, laureato in giurisprudenza con specializzazione in diritto romano, l'uomo su cui si sarebbero focalizzati gli interessi e le attenzioni del ministro Brei, proprio per la nomina così ambita. Attuale direttore generale dei beni culturali, spiega il quotidiano partenopeo e paesaggistici del Molise e Famiglietti, è stato vice capo dell'ufficio legislativo di via del Collegio Romano. È un giurista italiano dotato di grandi capacità amministrative e un profilo in linea con le funzioni manageriali che il decreto valore cultura conferisce al direttore speciale per Pompei. Il valore aggiunto, secondo il mattino, sarebbe la vicinanza a Salvatore Settis, storico, archeologo e intellettuale, molto stimato dal ministro Brei, che dal momento della sua nomina ha già visitato diverse volte il sito archeologico più famoso del mondo. L'articolo 6 del Codice dei beni culturali, della cui elaborazione si è occupato proprio Famiglietti, come componente della Commissione da gennaio 2003 a luglio 2004, recita che la valorizzazione del patrimonio culturale consiste nell'esercizio delle funzioni nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica di esso al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Insomma, l'uomo che ha scritto i particolari, ha definito i contorni di quella che deve essere l'attività per salvaguardare Pompei, potrebbe essere proprio lui a gestirla.